La milizia cittadina era costituita da reparti di cavalleria e di fontanteria, formati rispettivamente dall'elemento aristocratico e dalla classe media, vale a dire dai produttori e commercianti che risiedevano nel comune. Ogni rione della città, ad esempio, doveva fornire un contingente di uomini, i cittadini erano obbligati, oltre che a pagare i tributi stabiliti dai consigli e a obbligare ai magistrati, anche a prestare servizio militare in caso di guerra, quindi a difendere in qualche modo i diritti, le prerogative, le pretese del comune di appartenenza in caso di conflitto armato con altri comuni o con altre realtà politiche. Le spese relative all'armamento e all'attestamento delle milizie erano sostenute da tutti i cittadini, in particolare da quelli più ricchi, i quali insieme all'indipendenza politica della città difendevano anche la propria libertà economica. I consoli erano coadjuvati negli affari più delicati da un consiglio di credenza o senato che era affermato da rappresentanti di tutte le più importanti famiglie, che esercitavano un controllo reciproco al fine di prevenire i tentativi di appropriarsi del potere da parte di singole casate aristocratiche. Invece, ad assortare gli affari generali, provvedeva un consiglio maggiore, il quale era composto da un rilevante numero di cittadini autorevoli, compresi 300 e 600 membri, e in alcuni casi divisi per ceto. Esistevano la vera e propria assemblea di tutti i cittadini, nobili o borghesi, che era detto anche a Parlamento o a Rengo, che avevano il conto di decidere sulle questioni di maggior sviluppo come approvare le leggi, oppure di eleggere i consoli, disegnati al vito di fia, fia, ovvero sia eletto, sia eletto. E con queste poche annotazioni, poche indicazioni, noi terminiamo l'esposizione riguardante il comune consolare e passiamo invece alla seconda tipologia di comune, vale a dire il comune potestabile. tra la fine del XII e l'inizio del XII secolo i comuni consolari entrarono in crisi, cioè in qualche modo esaurirono la loro spinta propulsiva e dunque dovessero cambiare, mutare, modificare il proprio assetto costituzionale, vale a dire il particolare organigramma, la particolare tipologia di leadership politica del comune. D'altro canto, da un lato l'arricchimento della borghesia, i borghesi, i precedi produttivi del comune, dall'altro lato l'espansione territoriale che il comune aveva nel tempo, durante i vari secoli, compiuto a danni dei territori circondicini, e dall'altro lato ancora le lotte interne al governo consolare, il quale appariva troppo condizionato dagli interessi di certe famiglie cristocratiche, la lotta per il potere politico, finirono a poco a poco per inaspire i conflitti all'interno delle città, rubandone la vita quotidiana e finendo con l'ostacolare, lo sviluppo economico e mercantile del comune stesso. Anche l'efficienza delle pubbliche istituzioni alla fine ne ritentiva e l'amministrazione stessa della giustizia era divenuta sempre più paziosa, cioè parziale di parte e dunque anche corrotta. Forse quindi il desiderio di un governo imparziale, capace di ristabilire l'ordine e la tranquillità, così il potere esecutivo e quello giudiziano vennero affidati ad un podestà, da cui il comune podestarile, il comune cioè guidato da un podestà, da un uomo, ovvero un uomo non residente nei territori del comune, esperto di legge ma anche abile nel comando militare. Ora, trattandosi di un uomo non residente nel territorio comunale, quindi in fin dei conti di un forestiero, di uno straniero, con cui risultava, appariva, era del tutto estraneo alle rivalità locali e non aveva legami di parentela con le potenti famiglie cittadine. Settava cioè dunque di un uomo libero in qualche modo dalle lotte di potere, dalla divisione in fazioni che era tipica del comune consolare. Egli restava in carica per un anno ed esercitava le stesse, le medesime funzioni dei consoli, pur con la collaborazione di varie commissioni o consigli che rappresentavano le diverse categorie della popolazione. Ora, il Parlamento, cioè l'Assemblea in qualche modo comunale, anche se conservava i suoi compiti, almeno dal punto di vista formale, aveva comunque un ruolo, un peso, un potere, un esercizio effettivo del potere, grandemente, in gran misura diminuito, cioè delle prerogative formali, ma in sostanza per il proprio potere.